dal pensiero di san pio del 30 dicembre accendi tu gesù quel fuoco che venisti a portare sulla terra affinché consumato da esso mi moli sull'ara della tua carità quale olocausto d'amore perché tu regni nel mio cuore e nel cuore di tutti e da tutti e dappertutto si levi un sol cantico di lode di benedizione di ringraziamento a te per l'amore che nel mistero della tua nascita ci hai dimostrato questo pensiero è stato tratto dal libro padre pio un pensiero per ogni giorno dell'anno edito da shalom grazie